Il servizio Swyte è attivabile solo su domini già attivi sui server Aruba e sui pacchetti Hosting Windows e Linux non gestiti. Per iniziare, accedi al pannello di controllo del tuo dominio tramite l'indirizzo admin.aruba.it. Inserisci il tuo username chiocciolaruba.it, la password e il codice di controllo mostrato nell'immagine. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi indicare il nome del dominio su cui desideri attivare Swyte. Diversamente, l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Una volta effettuato il login, clicca su Applicazioni, poi su Attiva, presente nella sezione Swyte. Clicca nuovamente su Attiva e su Continua. Nella schermata successiva viene richiesta l'installazione del certificato SSL. Accetta le clausole e clicca sul pulsante Richiedi per procedere. Segui la procedura guidata, indicando i dati dell'account da associare se necessario. Attendi fino al completamento dell'attivazione. I tempi di attivazione del servizio Swyte sul dominio variano a seconda dei tempi di propagazione del DNS, circa 24 ore, e dei tempi di attivazione del certificato SSL, al massimo due ore. Una volta attivato il servizio, il nome del dominio punterà al tuo nuovo sito creato con Swyte.